Oltre a 300.000 luminarie sequestrate dalla Guardia di Finanza di Sassari, sette locali cittadini interessati dai controlli delle fiamme gialle dove dopo segnalazioni e controlli sono state rinvenute e sequestrate le lucine natalizie sprovviste di ogni marcatura CE e di citura di sicurezza necessari per certificare il corretto funzionamento delle stesse e quindi non in regola con le disposizioni normative del codice del consumo emanate a tutela dell'utente finale. Oltre al sequestro diverse sono state le sanzioni amministrative elevate a carico dei responsabili in gran parte di nazionalità cinese per decine di migliaia di euro inoltrate alla locale Camera di Commercio per il seguito di competenza. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari in occasione delle festività natalizie ha incentivato lo svolgimento di controlli all'interno degli esercizi commerciali di Sassari al fine di verificare che tutti i prodotti che vengono commercializzati in occasione di queste festività rispondano a quelli che sono i requisiti di sicurezza a minimi richiesti, cioè l'acquisto di una confezione contenente luminare natalizie che viene posto in vendita in un normale negozio deve garantire a ogni persona, a ogni acquirente di essere messo a conoscenza di quelli che sono i rischi e comunque tutte le caratteristiche che sono previste dalla normativa vigente al fine di evitare che magari nel montare determinati strumenti elettronici possa scoppiare improvvisamente un incendio o comunque il semplice contatto con la pelle possa causare appunto delle abrasioni o comunque delle conseguenze dannose.